Ho anche il croma, ma chi è di Xinzao? Madonna quanto sei scioppone Snake ma a te piacciono i giochi di rulo, penso di ruolo, sì Tipo D&D o il richiamo di Cthulhu Eeeh, no No, ho tutti quanti gli amici che ci giocano Patiti, infognati, che si vedono le sere per giocare ma io non ci gioco Cioè, i giochi di ruolo tipo quelli no Però i giochi di ruolo possono essere considerati anche giochi da tavolo, giochi di carte Tipo Munchkin o cose simili E quelli sì, mi piacciono un sacco 3 ore e 30 da fontana a fontana con il flash, minchia Ovvio, aspetta, il 6 flash ultimo Full AD for win, Snake tutti con grandi mestri e tu niente Poi ci sono io che mi ricordo quando misi la regola solo livello 30 E io ero tipo livello 27 Oddio Katron, mi ricordo, è vero A me piacciono le torte, perché no Twitch? Che vuol dire perché no Twitch? Stiamo anche su Twitch E io, anche io voglio quella skin di Vayne Bastarda Ah, ma quale? Quella dell'avversario? Ebbè, ebbè, ebbè Allora, iniziamo con questo? O iniziamo con la pozza? No, iniziamo con questo, dai, go Namo zio, namo, che cotto c'era poi Yasuo Quello c'era un bel culo Vai Yasuo Ok Balliamo Fine Io Noi intanto siamo belli tranquilli Parliamo Tranzolli Amici Hasaki Guarda come ci rispettiamo Ci rispettiamo proprio noi No, no Eh, vabbè Che vuoi fare? Vuoi fare cattivo? Eh, dai Farmiamo, tranquilli Bravo Bravo Io non rompo a te Tu non rompi a me Ce la farmiamo tranquilli Sciallissimi Ecco Eh, eh Ecco, ma chi ha fatto? Azzo Maestria 7 Yasuo in normal Ok Vabbè Ci sta, ci sta Vabbè Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Tanto sarà soltanto immortale In late game Tranquilli Va tutto bene Va tutto bene Grazie Yasuo Io bene anch'io Molto bene Va bene Va bene lo stesso Va bene lo stesso Per cado che io Non ho più mana Come farmo Come farmo No, non è rank Ed è normal È normal No Quel minio Se vabbè Allora sei un figlio di puttana Eh, ma lì Non facevo niente Zio Minchia Quanto farm ha In più Sto tipo Eh, vabbè 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 Proprio male Flash agli in faccia Ma come Flash agli in faccia Digià Non ho nemmeno la ulti Come faccio? Oh Dai, veramente Fighe di puttana Fatti dare il blu Eh, mo dopo Me lo faccio dare Tranquilli Probatto Comunque Non sono messi benissimo Stanno sotto la door Minchia Quanto farmai In più A me Dai Dai Rework di Kelly Uscirà con la prossima patch No, no Non mi prendere Non mi prendere Morto Shaco No, non è morto Ok La stitta con la E Ma la E consuma poco Di mana La 60 Eh, oddio Non sto a cercare Di recuperare Un po' di mana Ah No, l'ho preso Cazzo Cazzo Ok Mi sa che è meglio Che vado back Compro e torno Ok Tutto molto bello E interessante Bene Mi sono i minion Più 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 di valore Però ci sta Ci sta Va bene lo stesso Tutto lui Non è andato back Ora io Ho un po' di sustain Ho un po' di Carriamo Forse dovevamo andare a botto anche noi Dai No ma come No vabbè La mia è andata sul muro Dai però la mia è andata sul muro No che cazzo No che palle No sicuro viene Rengar Ah no dovevo maxare lo scudo avevamo detto Cazzo fuck Bene Mi stavo tutto tipo Fa niente Dovrei andare a botto quasi quasi Questo si è rifullato tutto Che palle Io sempre che penso che scappa subito Invece rimane la guardamme E perdo il tempo Giusto Poi mi devo mettere lo scudo più spesso Tutto bene Tutto bene Buonasera mi scusi il ritardo Tutto a colpa del tedesco Ma tranquillo Tranquillo Non si preoccupa Si ti Oh shit Nooo Volevo ultrarli sotto torre ma non ho fatto a tempo Ulti in faccia quel miscredente No cazzo ho sbagliato Ho sbagliato Fuck Dai non ho nemmeno il tp per torna subito Fuck due volte Si possono nascondere gli spettatori? Non lo sapevo sta cosa Ma da quando si nascondono? Non l'ho nascosti Si questo è il galio reworkato Ci sta scritto sia su youtube che su twitch Quanti ce ne stanno In totale siete 65 Ah però io l'ho fatto un bel po' di danno Dai dai che mo' lo recuperamo Tranquilli Non è un problema quello che è successo Solo un attimo questione di abituarsi a galio reworkato ovviamente Questo galio reworkato veramente mette un attimo in crisi Ammazza ma che era quello? La pagnotta Eh Volevi Dai Ci date qualcosa e qualcuno Andiamo 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 Eh eh Vabbè niente Ho fatto sentire un attimo la presenza Quella qua Buongiorno Buongiorno Eh eh Volevi No Cos'era? Ciao 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 Yasuo Potresti Potresti andartene via Vorrei giocare Grazie Troppo gentile Guardalo Guardalo Come fa vedere che lui è bravo a giocare con Yasuo Guardalo Pezzente Ops Oh Vabbè un attimo back TP Poi compro Oh La protobelt Mamma mia Che figata Mia la protobelt Ok Manca qua Eh 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 Dodge Dodge Ese Mayasso Te Piede sta Slepa in bocca Oh Shit Andiamo Corri Ahem Non penso sia più il caso Word Bastardo Come si decide con chi giocare? Chiedevo semplicemente Chiedevo semplicemente I nickname in chat I primi che lo davano Ehm Qualcosa andava storto? No Correngar Che si è fatto il drago Eh Non la posso difendere Ciao rip T'ho voluto bene Torre Sei stata sempre mia amica Oh Comunque L'ho quasi Recoperato Yasuo Un farm No dai Cos'è quello? Cos'è Sto Zezerot Veramente lo Zezerot Ok Morto Oh 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 State calmi Dove l'ha messo? Lì dentro c'è spuglio Figlie di zozza E mo' arrivo Mo' arrivo Eh quanti sono Lì Visto C'è già uscendo i game con i sub Z Con la torrenza Poi dipende Ma perchè si sono messi In 84 mid? Che vogliono da me? Perchè? Che gli ho fatto De male a sti due? Ma perchè? C'è io Boh Io gli ho fatto un dispetto Non ho capito Sto antipatico forse No Oh Bello Bello Mi sono piaciuto Pam No Ma ho fatto gol Non è possibile Bene Io dovrei farmi il red Il blu Infatti lo sciattolo Della abissa Sì infatti Madonna Che fatica Passa sto blu 8 anni Ok Formare pure bot Beh Quello l'ho missato Però ci sta Ah Mo si trasferì tutti i top Guarda che rotation Che fanno questi Sono dei professionisti Bravi 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 Tipo arriva Mi spana nel culo In una maniera incredibile Bene Il carretto ovviamente L'ho missato Sì no Lo scudo Lo dovevo maxare Però mi sono dimenticato Di maxarlo E quindi Rip Sono morto No 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 Eh zio Non me la so sentita io Pace No Perché non ci sei andato Tu xin Alla ulti Alla ulti Alla ulti Se vengono Aiuto È normal Con i viewers Ma ci andiamo a fare il drago È la peppa Ma c'è il drago E la peppa No 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 L'ho visto L'ho visto Via La peppa Ma quella skin esce Proprio il drago Incazzatissimo E qua Eh buongiorno Nooo lo scudino Cazzo comunque gli abbiamo fatto un macello Ho fatto una bella ulti Mi sono piaciuto Bravo Snake Bravo Ecco Questo però non è andato proprio bene bene di cosa Non hanno lo smite Zio Non hanno lo smite Oddio Oddio Prendilo L'ha preso L'ha preso Si fa anche la kill su trash Se la fa Se la fa Perché main la fatta esplode Vabbè Comunque mi devo fare questo Si 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 Però Oddio Si no me lo devo fare Me lo devo fare Mi devo fare pure le scarpette Mi devo fare pure le scarpette La scarpetta C'è molta gente in questa chat Sta diventando faticosa A leggere tutti i messaggi Panda Perché devi prendere in giro Sei un bastardo Eh come Nessuno dark Anzi Se qualcuno è iscritto Si tolga da lui Oh 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 Qua che si fa Muoio Io lo so che muoio Non è vero Non è vero Non è vero No protobetto Via Ciao 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 No Ho sbagliato la cook Cazzo Fook Cazzo Fook E la peppa Grab su grab Qua attenzione Grab inception No Era mia L'avevo preso Dai Ma almeno una Devo mettere lo scarpetto Su qualcuno E rifullarmi la vita Ciao torrette Ciao torrette Raga All in Preso Don ragazzi L'ha provato Belt Incredibile Best oggetto In the world Per Galia Ecco Ma fai sempre Ma sto tankando il mondo Ma dai Che schifo 8 anni Li fermo Tra 200.000 cose Faccio pure queste Però forse Non era il caso Di farmi anche quelle Visto che sono 200 ad Voglio forse La ninja Tubby Lo so che scala Tutto quanto A P Maggi Maggi Cresto Però Grazie Alessandro La ringrazio Protobelto Ma Mi ci arriva qualcuno Fai un urf Non ci sono Che cazzo faccio Questa tecnica Da challenger Che emozione Beh Hai visto Quanto Sono stato Bravo Mettila Guarda Mettila Guarda Oh Cazzo Dai Uccidilo Uccidilo Forse abbiamo Esagerato Forse non dovevamo Farlo Però è stato Divertente Stavo Bello Ecco Gli occhiali È molto più Affascinante La ringrazio Devo completare Questo Fai telepersonalizzate No Non penso Dopo faccio Un po' di rank Ed così Giusto per perdere Qualche punticino In più Ma io prima Avevo un botto Di farm Che recuperavo Un sacco Stavo tipo A 20 milioni A 160 million E ora Sono rimasto Indietrissima Vero Prendi questo Zio Peppo Bene La La non è vero anche la nostra penna è forte ma perchè non leviamo questo? ce lo schifo ok sono qui sono qui oh ma sono bloccato da 8 anni e mezzo mamma mia quel lettino di auto attack dove va? dove va? io penso che debba andare via da questa cosa però no sono morto sono morto via oh bastardo che balle che balle si raga ho fatto la prima kill con l'auto attack di galia sono troppo forte snake dai tira fuori la master reset eh no ma la tengo nascosta per poi alla fine del game mostrargliela capito? comunque devo farmi 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 voglio farmi anche il bashi grande alessandro non me ne non mi può fare un un lieve sconto è un po' troppo no no non ci credo mai che balle ahahah 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 bastardi ho appena finito un game con galia e ho fatto cagare molto più di te ah molto bene quindi tutti i main galia quindi tutti i main galia toh toh ciappate questa va salta su sto ceppo la prossima volta zio gigio vai così vale ragazzi lo vogliamo dire che è stato tutto a merito della mia ultimate lo vogliamo dire? beh io lo direi guarda che non perde vita galia guarda quanto è bello eh vado back perchè sono agab no no dopo non uso i riven uccidiamolo 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 siamo morti siamo morti finiamo il game finiamo il game finiamo il game ok e chi può essere stato ucciso all'ultimo secondo chi può essere stato ucciso all'ultimo secondo mannacciala amadoschietta ah a 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 Grazie per la visione!